chi rinasce cerchio firenze 77 attraverso roberto setti scuola del cerchio firenze 77 dizionario del cerchio firenze 77 a cura di vb mostro chi rinasce mostruoso può essere stata una creatura che ha usato male la propria bellezza per fare del male per tradire per tante altre ragioni si può rinascere mostruosi ad esempio perché si deve imparare la vita anche con un corpo fisico che non invita certo ad amarla possono essere persone che hanno torturato altre persone se andiamo a vedere tutte le torture che sono state fatte durante l'inquisizione vedi si può immaginare che cosa possono avere quelle creature come effetto 88 g